Il mondo cambia in maniera veloce e la scienza ancora di più. Un mare di notizie ci sommerge ogni giorno. Qual è l'informazione affidabile? Che cosa mantiene valore nel tempo? Gli studenti fanno domande difficili. Dove posso trovare risposte convincenti? A scuola ho un computer, ma dove trovo un video che mi aiuti a spiegare la meiosi, il transistor o i passaggi di stato? Scienze Zanichelli è il nuovo sito che dà una risposta a queste esigenze. Notizie, immagini e video sono selezionati dalle riviste scientifiche più autorevoli, tradotti e spiegati con un linguaggio semplice, preciso e accurato. Due blog, Biologia ed Intorni e Fisicamente, propongono temi di discussione su cui è possibile interagire scambiando idee e opinioni. Tre esperti in matematica, chimica e fisica sono a disposizione per dare una risposta a quasi ogni quesito. I siti dei principali libri di testo e le aree per i test sono raggiungibili tramite link. Il sito, ricercabile per parole chiave e tramite catalogo, presenterà anche le ultime novità editoriali. Il mondo cambia in maniera veloce e la Zanichelli ne sa qualcosa, con i libri oltre libri.